Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale Siamo tornati qui con un nuovissimo episodio dedicato alla carriera della Torre con l'Inter Oggi sono bello carico, fuori è una bella giornata Spero anche da voi perché, signori, oggi sono carico perché dobbiamo fare bene Cioè, non ci sono altre vie, altre scelte Abbiamo Juventus, Bologna in campionato e poi l'andata Della semifinale di Europa League Se siete persi l'episodio precedente è andato a recuperare, raga, perché è stato intenso Direi intenso, direi intenso Allora, come prima cosa Cuffiette I previsti Mi sto un po' anche cacando addosso, devo dire, sono un po' spaventato 24 Non ho, non ho, non ho, non ho, non ho, non ho La possibilità di ritirare i dadi perché ho finito i bonus Oh mio Dio Pinamonti is on fire La 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 Pinamonti is on fire Allora, la coppia dagli alberi Poi Akimi Sulla sinistra abbiamo un consensavo stanco Io ci vado con Molina, cacchio me ne frega Che tanto corre Bisogna rivedere la difesa Bisogna rivedere la difesa, ragazzi Quindi dentro Inasio, dentro Guardiol E basta Signori Andiamo a giocarci così Questa partita contro la Juventus Che è una squadra decisamente importante Con Iattaren indietro al capocannoniere Momentaneo Luzjan Vlaovic Andiamo in campo Sempre sul pezzo Forza Inter Ma è la verità? Cioè, è tutto, è tutto vero, veramente Ma si è spaccato Akimi? Comunque ragazzi, fanno, fanno un contrasto E me spacco, no? Si è rialzato Akimi, non lo so se si è rotto Bella palla centrale per Iattaren Aleksandro Passa dietro da Zakaria Che c'ha il mancino libero Andreo Nana, subito Primo intervento del match Vediamo se Akimi Sta bene No, non sta bene, ma No, non sta bene Non sta bene per niente Occhio a Vlaovic La Togliamo Akimi Mettiamo Williams Dopo 18 minuti La sblocca la Juventus Signori, c'è solo una squadra in campo Occhio a Pino Prova a inventarsi qualcosa È bellissima la palla per Pinamonti Che però ha inseguito Pinamonti Cosa ha fatto? Aveva fatto qualcosa di incredibile Poi Molina la recupera Palla per Ieremie Pino Che può riaprirla con un gran gol L'Inter pareggia con calma L'Inter pareggia con calma Con una bella azione Con una bella giocata Sia di Pinamonti Che meritava Lui stesso il gol E poi Pino La messa là Dove Cesni Non può arrivare Voglio rivederla però Bravo Molina Né qui nel recupero Mamma Pino Mamma Pino Occhio Alla Juventus Con Alexandro Raga purtroppo Quando la fanno girare Così che passano Da una fascia All'altra È veramente Molto molto Faticoso Riuscire a chiudersi Difensivamente Non è vero No ragazzi Però così Così è Così è brutto Così è brutto Così è brutto Con Romero Che si fa mangiare D'Alexandro Guarda che roba Guarda che roba Ok Williams Di nuovo Palla per Pino Cesni Sicuramente Pino Il più pericoloso Dei nostri Ancora un'ana Che ci tiene a gala Raga Sono un po' abbattuto Sinceramente Sicuramente la Juventus Merita dal punto di vista Del gioco Però Boh Cioè non riesco più A giocare come voglio Forza ragazzi L'ultima azione Oddio Noo Vabbè ragazzi Che dire Che dire C'è poco C'è poco da dire Io Andrei avanti Nel complesso Penso che all'ultima Se abbia meritato La vittoria Solitamente È difficile Che noi Subiamo così tanto Quando il tuo portiere Migliore in campo E fai così poco Meriti La sconfitta Potevamo pareggiare Ma abbiamo perso Pinamonti È un po' È un po' calato Devo dire che è un po' calato Pinamonti Fortunatamente il Milan Anche Non guadagna Troppi punti da noi Noi ne stiamo perdendo Decisamente troppi Fa sempre male Perdere il derby d'Italia Sempre Soprattutto così Vediamo un attimo Cosa si è fatto A Kimi Abbiamo Tre mesi A Kimi Trattura dietro del piede Ragazzi Abbiamo Farias Che sta fuori Sette mesi Biuk Che sta fuori Tre mesi Adesso abbiamo A Kimi Che sta fuori Tre mesi Siamo a posto Siamo tranquilli No? Voi ditemi Cos'è sta roba Ma Kimi 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 ha fatto Un normale contrasto Di gioco Tre mesi fuori Avevo il Bologna Qui Partita Partita che Mi fa ricordare Momenti brutti Devo dire Ma Che Possiamo andarci a giocare Tranquillamente Con i giocatori Che ci rimangono Perché poi alla fine Non è che ne abbiamo poi Così tanti Allora Romero Con me ha chiuso Dentro in ascio Romero il prossimo anno Vola Ve lo dico io Poi direi Martinez Scamacca Williams Non si è ripreso Che ci potremmo mettere Qui sulla fascia Mettiamoci Molina Ok raga Andiamo così Dai Ho bisogno Ho bisogno di un consensato Starripante Andiamo in campo Sempre sul pezzo Forza Inter Bravo Scamacca Con il corpo È il dopo È il dopo Scamacca mio È il dopo Cioè Malissimo Con i piedi Malissimo Con tutto Tranne Dai che questo è buonissimo Dai che questo è buonissimo Dai che questo è buonissimo Non so cosa dire ragazzi Sinceramente non so Cosa Dire Dai che è uscito male Sanchez Scamacca Fa qualcosa Uff Io parto sempre carico Poi sto gioco Mi fa Fa di tutto Per Farmi spaccare il pad È clamorosa Sta cosa Trovo bare Lautaro Guardalo consensavo Yes Mamma mia Consensavo La rimetti in piedi Quanto è forte sto ragazzo Quanto è forte sto ragazzo Bravo Brozovic Bravissimo Palla per Elmas Occhio perché c'è spazio Il movimento di Scamacca è buono Ritorno da Elmas Te prego Elif Elmas Finalmente Torna il gol 2 a 1 È un bellissimo gol Un bellissimo scambio con Scamacca Gli due si abbracciano Sì Bravi Era proprio quello che volevo Bella azione Bella azione Dai ragazzi Dai 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 Non è vero Io non ho le parole Per descrivere bastoni Che non chiude più niente E non ho parole Per descrivere Quello che mi ha fatto Dominguez È stato bravissimo È stato bravissimo Che non me l'aspettavo proprio Una roba del genere Raga Guardate qui come si è girato Un gol pazzesco Scamacca Occhio perché c'è l'inserimento di Elmas L'ho già visto Mi lasciano lo spazio Elmas Andiamo Elif Andiamo 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 Elmas Che partita la sua quest'oggi Scambi Mettiamo Mettiamo Pino Che è in forma Aspetta che gliela ha fatto l'assist A Elmas Doppio assist di Scamacca forse Occhio perché qua si perdono Un altro pallone Quelli del Bologna È bella Ti prego Chiudiamola subito Pino Ieri mi Pino Super in forma Ieri mi Pino Super in forma Il nostro nuovo Elmas Ragazzi Eh sì scusatemi Il nostro nuovo Farias Ieri mi Pino Sto che ho fatto Mamma mia che fatica Qui gran palla recuperata dai nostri Che palla di Martiez Poi Pino Sempre con l'ausilio del palo Solo non ce la fa Occhio a Manuel No No non subirò gol da Manuel No Non oggi Martinez È un ottimo movimento di Pino Occhio ad Elmas Servito perfettamente da Ieri mi Pino Attenzione Elmas Per la tripletta Elmas Per la tripletta Si porta a casa il pallone Il Macedon È 5-2 Inter Una partita soffertissima Ma finalmente chiusa Che palla di Pino Che palla di Pino raga Occhio perché Elmas Ne ha ancora ragazzi Cioè non molla un centimetro Bologna è completamente andato Elmas Prova il movimento Per Pino 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 Era bella Era bella L'idea era bella raga L'idea era bellissima Finisce qua Solo 3 punti Rida divertentissima Divertentissima Super Bologna Che poi ha dovuto mollare Alla nostra potenza Della patata selenella Niente da dire Se Elmas non ha 10 Oggi Nella fine Schavank Ha fatto 2 assist A fine Ha fatto 2 assist 7,7 Non senza 8-2 Pino 8-5 Entrato con un gol E un assist E alla fine devo dire Ma io avrei dato Qualcosina di più a Onana Perché comunque ci ha tenuto A Galla Bene Benissimo Benissimo signori Il modo migliore per avvicinarci Interesse per Guri La Roma 49 milioni Che miseria Ma noi abbiamo dei soldi Cioè perché ragazzi Il prossimo anno Dobbiamo rivalutare La questione primavera E Fuori quota Assolutamente Da rivalutare Tutto quanto Perché Dobbiamo capire La questione età Non è tabili Bubili Ba Signori Andiamo a vedere un attimo Le situazioni in campionato Prima di tuffarci In maniera definitiva Oddio Definitiva Definitiva Per questo episodio Sull'Europa League Con l'ultima parita Dell'episodio Contro Lo United Siamo ancora primi Cioè siamo di nuovo primi 32 gol fatti 36 subiti E Occhio Occhio Io voglio Piancere Ho paura Ho tanta paura Io non so cosa posso uscire Fortunatamente Vi fido Della mia difesa Fortunatamente Mi fido Della mia difesa Non è un problema Non è un problema Guardiol Inasio Zabarni Gapandu Il portiere Che vi fa spaventare Poi Elmas Direi Che va Bene Così Sarà durissimo Andiamo in campo Sempre sul pezzo Forza Inter Tra iardo Raga Andiamo 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 Che bello San Siro Andiamo Mamma Simone Mamma Simone Sussaggio Al sesto minuto Con un'ubriacatura Totale In mezzo Sto riunite Dell'arrivata Al tiro Ok Ripartiamo noi Con qualche rischio Jeremy Pino Super in forma Riesce a giocarla All'autorio Martinez E poi Brozovic Ma prende Un bruttissimo Fallo Dal No Teo Teo Hernandez Cartellino giallo Per lui Inasio Tu ti rendi conto Di che palla Hai recuperato Martinez Martinez Mamma De Gea Ha fatto una parata Aliena Una parata Aliena De Gea Ma che L'hanno fatto male Ancora Martinez Ancora De Gea Arriva Elmas Con la mano Van de Beek E poi Gvardi Lo pensava di essere Non so In piscina Non lo so dove Consensao Cambia compino I due si trovano Ancora Consensao Al centro Brozovic Martinez Ancora una volta De Gea E adesso è partita Proprio la sfida Tra i due Ma cosa cazzo Ma cos'è sta Ma io dico Veramente Ok perché c'è troppo Spazio al centro Fernandez Inascio E poi Gvardi Ti salviamo Autoro Martinez Ho bisogno di te Elmas Ma quando ti hanno munito Bellissimo 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 Passa dal Il passaggio più semplice Di tutti Martinez Zio prete Occhio a Sancio Occhio a Sancio Gapanduenbu La blocca lì E fa ripartire subito L'azione d'attacco Dell'inter Siamo al 44 Quanto sarebbe bello Passare in vantaggio Adesso Con Pino Che se ne va Ancora Pino Che se ne va Ma vaffanmo Primo tempo Molto divertente Devo dire I due compagni Se le stanno dando Di santa ragione In tutti i sensi Ci stiamo menando Ma stiamo anche Tirando verso la porta Quindi Bene Una bella semifinale Devo dire Non so Li prova tutte Per andarsene a Vambi Saga Che non si leva Dalle palle Forse adesso Consegui Dammi la mano Martinez Invece di stare lì a guardare Ah Poi me la sto giocando Con Guardiol Inasio Zabarni Fammi sta palla Olè No Ma perché non sto zitto Ma perché non sto zitto Raga Non era per barella Il passaggio Non era per barella Il passaggio Bravo Zaba Olè Pino Martinez Io ho bisogno Di un movimento Uno Va bene Va bene Andiamo 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 Paleggio Inter Con Jeremy Pino Is on fire La 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 Pino Is on fire Va a esplodere San Siro Gran palla Di la Toro Martinez Io voglio esagerare Metto Vignato Io voglio esagerare Voglio esagerare Mamma che palla Simon Simon Ghiapando NB Ha fatto una parata Mostruosa Non è vero Pino Cosa stavi per fare attenzione Dammela Giocagliela Te l'ho detto No Non sto riuscito A giocargli La raga Ne a giocargli Ne a tirare Porca paletta Che ansietta E' una steca Cristiano Ronaldo Un po' Bravo Inassio Col suo compagno Di nazionale Ha fatto la circonvalazione Simon Gapando NB Su Cristiano Ronaldo Facciamo entrare Molina Occhio Occhio Simon Ma scappa via Lautaro Martinez Lautaro Martinez Lautaro Pici qui L'andata della semifinale Di Europa League 1 a 1 Gioccheremo al ritorno Che partita è stata Ragazzi Bellissima Cioè questa Europa League Si sta regalando emozioni Infinite Infinite Una bella prestazione Una bella prestazione Devo dire Da parte di tutti Simon Migliore in campo Per l'Inter Fate Vobis Di là Il Benfica Batte la Tlatic Bilbao Non Non sarà semplice Non sarà semplice Ragazzi Prossimo episodio Toast Prossimo episodio Venezia Manchester United Roma E poi in quello dopo Chiudiamo La stagione La seconda stagione Con Cagliari Milan E Fiorentina Quindi si decide Tutto un po' Nei prossimi due episodi E Sinceramente ragazzi Cioè Siamo giocati La finale La semifinale Di Champions Con in campo Un ventenne Un ventunenne Un ventenne Un ventunenne Un ventunenne Un ventunenne Un ventunenne Entrato dopo Un ventunenne Un ventunenne Un ventunenne Siamo Un ventunenne Ragazzi Di Cioè Di cosa stiamo parlando Spazio ai giovani Qua Proprio Al Al limite Del Del possibile Al limite Del possibile Gran lavoro Gran lavoro Con i giovani Stiamo facendo Un gran lavoro Con i giovani Spero che questo episodio Vi sia piaciuto ragazzi Se non vi piace Un commento e consiglio Alla prossima Ciao a tutti